8.000 di arte, arte! E' il mio Dio! E ciao a tutti ragazzi! Quest'oggi, come potete vedere, ci troviamo su The Walking Dead. The Walking Dead, The Walking Dead, The Walking Dead. The Brought in Bed, The Rockin' Dead, The Funtin' Bed. Comunque, ci troviamo su questo fantastico gioco. Voi direte, come fai a dire fantastico se non l'hai mai giocato? Sì, è vero ragazzi, non l'ho mai giocato. Ma ho visto i video di Rexen, che anche lui in questo momento sta giocando questo fantastico titolo. E mi ha fatto venire voglia di andare su Steam e comprarlo. Vi dico soltanto questo. Quindi ho comprato The Walking Dead, ragazzi, e inizierò un gameplay appunto su questo gioco. Ma la cosa bella di questo gioco è che ci sono delle scelte da fare. Quindi, cosa vorrà dire ciò? Dipende che cosa scegli. Può morire qualcun altro. Cioè, tu devi scegliere tizio A o tizio B. Dipende chi scegli, uno dei due muore. Cioè, incredibile la cosa. Quindi ci sono vari finali. Perciò ragazzi, teoricamente, andrebbe giocato 10.000 volte per vederli tutti. Comunque ragazzi, non vi vubo altro tempo. Quindi ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere. E partiamo col gioco The Walking Dead. Oh, clicca per continuare. Perfetto. Connessione in corso. Si sta connettendo! Status episodio, impostazioni, esce dal gioco. Aspettiamo un po'. Ok? Allora. Ah, ecco, un'altra cosa. Volevo dirvi ragazzi. Cioè, mi è presa la voglia di vedermi anche la serie. E ragazzi, qualcosa di fenomenale. Cioè, mi sono asciugato due stagioni in tre giorni. Mi sono visto la prima e la seconda stagione. Ora mancano la terza e la quarta. Qualcosa di fenomenale. Perciò grazie Rexene per avermi fatto scoperto. Per avermi fatto scoperto. Oh! Per avermi fatto scoperto questo gioco. Comunque. Allora, dai, non perdiamoci in chiacchiere. Non perdiamoci in Barbabietola e Catara Luci. All'intento andiamo su audio. Allora, la voce io la voglio al massimo. La musica me la metti poco più bassa assieme agli effetti. Perché io sinceramente devo sentire tutto. Ah, ma in inglese, vero? L'audio è in inglese. Cavolo. Lo mettiamo qua, applica, vai. L'audio è in inglese, cavolo. Ci sono i sottotitoli. Allora, grafiche. Voglio tutto al massimo. Alto, 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 alto. Risoluzione. Perché 1024? No, mettimi la 1920. La 1920 per 1080. Applico. Ora non so che se cambierà qualcosa. Tipo appena distrutto il gioco. Ma fantastico. Si è appena bloccato il gioco. Oh! Si è chiuso il gioco! Cazzo! Ah! Merda! Non cambiare mai risoluzioni al gioco, se. Ok, perfetto ragazzi. Problema risolto. Ho appena ricambiato la grafica. Perché ora mi va a scatti tipo la freccietta. Non lo so, vabbè. Comunque ripartiamo ragazzi. Ho appena cambiato la grafica. Cioè l'ho messo il 1920 per caccapupù. Allora. Aspetta, impostazioni. Mamma mia. Gioco. Cos'è gioco? Sottotitoli. Ebbè, ovvio. Rilevo selezionabile. Ok. Notifica trama. Ovviamente. Mostra tasti. Non c'è bisogno. Sensibilità del mouse. Più c'è. Aspetta, abbiamo 18. Ma non è cambiato un cazzo. Comandi. Allora, dammi comandi. Allora, WSD. Opzione dialogo. Oh, dialogo. Si, dialogo. L'opzione è diagolo. Azioni, scorrimento, dialoghi. Va bene. Perfetto, vai. Siamo pronti per iniziare. Andiamo su indietro. Quindi ragazzi, passiamo a gioca. Ah, devo pure scegliere. Allora. Scegli stile display. Ah, incredibile. Il Glenn ricorderà che hai mentito. No, 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 no. No, no, no. Voglio, voglio, voglio leggere tutto. Episodio 1. Un nuovo giorno. Questo qua lo posso giocare? Cioè, posso andare a vedere i cosi, però... Va bene, però, va bene. Vai, partiamo. Partiamo dal primo. Eh! Episodio 1. Un nuovo giorno. Gioca. Perfetto. Perfetto. Vai, 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 vai. Mi piace, mi piace. Tanto voglio appunto ringraziare Rexen per avermi fatto scoprire questo gioco. Questa serie si adatta alle scelte che fai. E il resto non l'ho detto. Tiltay Games presenta... In associazione con Skybound Entertainment... The Walking Dead. Eh! Vai, parti! Vai, vai! Ok, guardiamoci. Episodio 1. Un nuovo giorno. Va bene, dai, basta. Basta fare voci del caucaso. Non parlerò durante questi filmati. Che c'è, zio? Che bella, zio? Che spacco di tutto, bro? Cazzo, guardi. Baccia mille, chiappe. Così. All'altro, bene, bene. No, che non sono stato io. Sono innocente! Allora. Usa la ruota del mouse per scegliere una risposta. Perché dici così? Sai come si dice? Ha davvero importanza? Perché dici così? Perché dici così? Perché dici così? E tu che dici? Non da me? Ogni volta? E tu che ne dici? Perfetto. Abbiamo quello che pare essere un S1091. Ne pensate all'uscita pistola dell'885. A tutte le unità! Muovete quel culo! Muovete quel culo! A tutte le unità! Ora appunto il reticolo dello specchietto. Ah, ok. Guarda, specchietto e retrovisor. Oh, sono un ragazzo di bacon! Fico! Sono un ragazzo di formaggio! Oh! Allora, sei di macon? No, sbagliato! No, sbagliato! Oh, ciao, polis! Attenzione! Personale medico diretto a Dr. Feed! Muovete il culo! Devono tutti muovere il culo! Cioè, morale, muovi quel culo! Muovi quel... Fattuto! Certo, lo voglio sapere! Beh, non parli! Mi dici come... Forse l'ho fatto! I soldi in incosso! Tutte le unità sono disponibili! Incontrate le chiamate! I dispacci! Spacciano droga? Comunque, ragazzi, morale della favola! Muovete quel culo! Get off, Aron! I'm driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. He was an older fellow. Big, soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him. Crying and snotting all over right where you... What's going on? I'm going to... I'm going to... I'm going to... Stop, but that's government property. And I'll be forced to zap him otherwise. So he stops and... Haven't exhausted all his options... He starts crying out for his mama. Mama! 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 It's all a big mistake! It wasn't me! Mama, no, no! È stato io! È stato il trattore! Ah! Amico! Allora è stato lui! Che cosa brutta! Stava tagliuzzando tipo... Guarda la strada! Attenzione! Perfetto! Ok. Fantastico. Ho fatto finta pure io di ribaltarmi in tutta la situazione. Sembravo incredibile, no? Dai, apri quei... Oddio. Ok. Va bene. Sì? Apri quegli occhi! Perfetto, sei morto! Perfetto ragazzi, spero tanto che questo gioco vi sia piaciuto. Il protagonista è morto per giocare. Ho sette. E bevi? Oh! Fuck! My leg! Oh! Fuck! My leg! Oh! Fuck! Va bene, basta parlare in inglese altrimenti tipo vi spoilerò tutto. Allora, che devo fare? Usa il mouse per guardarti intorno e trovare un modo per uscire dall'auto. Beh, dalla portiera penso sia troppo ovvio, vero? Che cos'è quello? Sì, però la sensibilità del mouse è troppo sensibile. Aspettate un attimo. Impostazioni. Gioco. Mi pare che era su gioco. Sensibilità, sì, mettiamola su 12, applica. No, perché quando muovo questa cosa... Ok, va già meglio. Allora, che cos'è? Fucile! Oh! Dammi il fucile! Perché diavola aveva la pistola estratta? Quello è un fucile, non è una pistola! Stupid woman! Hey! Hey, officer! Officer! I'm still got back here! Ridicendo. Agenda! Ebbè, direi... Non si... Ah, mamma mia! Ci voleva un medico per dirlo, eh! Ok, perfetto. Sta ripetendo sempre la stessa stranzata. Ma scusa, aprire dalla portiera... Che cazzo è sta cosa? Colcio finestra. Ah, ma questa qui non è la portiera, è il setile. Ah, io pensavo fosse la portiera. No, questo mi pareva la maniglia dove, tipo, tu apri e spingi. Ok, perfetto. Non è questa la portiera. Aspettate, non c'è un cazzo da cliccare? Eh, no. Perfetto. Tira un caccio! Tì! Tira un altro lato! Tì! Tira glielo un altro! Ah! Distruggiamo tutto! Mamma mia! Che uomo. Ora muoviti verso la finestra utilizzando il tasto W. Guarda! Che devo fare? Ti devo guardare? Meno male che me l'hai detto tu, sai. Non l'avevo capito. Non vorrei far notare che c'erano pure i vetri, ma lui ha... Ha sbloccato l'abilità corpo d'acciaio, perciò lui non... Non si scheggia col vetri. Ah! Che cazzo hai fatto? Che cos'è quel sangue che ha fatto? Usa il tasto W, avanti. Per scorrere, mi pare, sulla macchina che spariscono così subito le scritte. Prendi quella merda di fucile. Prendi il fucile! Prendi il fucile! Prendi il fucile, prendi il fucile, prendi il fucile. Eh, grazie al cazzo, raccoglilo, no? Cartuccia di fucile. Ok, mamma mia. Abbassarsi non è mai stato così difficile. Ok, raccogli quel cazzo di fucile. Dai. Dai, 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 no! Sembra scarico. Hai racconto una pallotta. Prendere e infilartelo nella cazzo di cinta? No, eh. È morto! Ma poi, guarda, è tutto piegato. Ma c'è altro, tipo, da prendere, tipo... Ah, no. Ok, solo questo. Poliziotto! Blah! Guarda, ma... Officer! Officer! You are die! You are crepated! Ma poi, guarda, qua è tutto storto! Va bene, vai! Prendi le chiavi. Prendi quelle fottute chiavi! Fuck, man! Vai. Quanto cazzo sei stupido! Dai, questa musica inquietante non è per niente di buon auspicio. Apri queste cazzo di manette e muovi quel culo. Bravo, ragazzo. Dai, 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 apri l'altra. Vuoi un bacetto? Perfetto. Vai, sei libero. Oddio. Go. Allontanati! Ma porco! La gente di merda! Allontanati! Ma che diavolo? Prendi l'arma! Dove sei? Prendi... Prendi quel cazzo di fucile! Prendilo! Fuck, prendi questo fucile di merda. Prendi... Prendi... Ma pomado! Ma sei davvero stupido! Ma sei davvero cretino! Ti chiamavano... Mani di merdologo alle elementari! Stai fermo! Stai fermo! Stai fermo! Stai fermo! Ne voglio un altro! Perfetto. Mamma mia. Sono troppo buono certe volte. Non hai detto amico. Hai detto man. Man vuol dire uomo. Friend dovevi dire friend. Ok. È puzza di merda! Merda, merda, puzzi di merda! No, tranquillo! Ho soltanto la testa aperta, il cranio aperto, il cervello a foto... Sta bene! Secondo te cretino è morto e vivo! Ti ho la testa spappolata! Ti sfido io ad andare in giro con la testa spappolata a urlare sono vivo! No, ma una domanda ragazzi. Ma che cazzo? Ma quello è Clementine. Perfetto. Vi ho appena spoilerato il nome della ragazzina. Bravo, Pepo. Che cazzo è sta cosa? Non mi piace sto rumore. Non mi piace sto rumore. Ho paura. Scappa via come la merda! Scappa! Ma non mi interessa se c'hai uno, uno... Guardalo che cretino! Guardalo che stupido! Ma... Mamma mia. Corri! Ah, vero, c'è la gamba spappolata. Ha lasciato il cibo. Non te lo do il bacetto! Dai, dai. Dai! 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 Perfetto, perfetto. È salvo, è salvo. È salvo. Ok. In questo momento loro stanno dicendo Dammi il cibo, che bello! Che bello! Dammi il cervello! Che c'hai? Chi è che sta sparando? Il cervello! Andiamo a raccogliere il cervello! Mamma mia, un futuro! Come attore di zombie. Mamma mia. Zombolo come mi chiamavano all'elementare. Allora, comunque dai! Caccapopo! Muovi quel culo! Oh, la ruota attaccata! Anybody? C'è nessuno! Che devo fare? Oh, guarda, posso camminare. Ma c'è qualcosa da cliccare. Ah, no. Porta vetri. Vediamo se tipo c'è qualcuno. Oh, una casa sull'albero. Casa sull'albero. Non c'è scala. Parla ancora. Aiuto! Mi pareva di aver visto una ragazza. Continua a parlare! Mi sa che è vuoto Fantastico Non c'è la scala Sì va bene occhio l'ho capito vai Basta cliccare le stesse cose Mi dico tutta mente Che cazzo è quella cosa Esamina servizio da te Oh tesoro Stavo dicendo Oh tesoro sono le 5 Oh caro Prendiamoci il te Di bourbon Perché le vuoi riempire con un barbone Come si schippa nei dialoghi Che tipo l'ho capito Vabbè perché Andiamo ad esaminare all'interno della casa Sperando che tipo non ci uccidano Allora andiamo ad esaminare all'interno della casa Che non cammini dritto Ti dico di andare dritto Comunque Porta vetri scorrebole Oh sì sei pronto per aprire questa cazzo di porte Oh sì Devi dire sì Sono fottutamente pronto Mi chiedo se c'è qualcuno in casa E beh direi capito Con questa apocalisse zombie Saranno tutti i baby born Quando tu entri devi rilare Che brutta cosa Allora Apri la porta dai E tira Che pena porta vetri Una testata Sto entrando uno sparato Tu devi dire Sono un amico 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 Oh S*** Oh del sangue Però mette bene il sangue Più più tempo che l'altro Oddio Questo sangue promette davvero molto Sai Anche questa musica inquietante Di sottofondo Io ci avevo messo qualcosa Tipo di Però non penso sarebbe andato Sì Magari lì c'è qualcosa Sì un cazzo di telefono Dico Un cazzo di telefono Magari dice qualcosa Meno male Alle 17 e 43 Alla 23 e 19 Ti voglio Sto canzoni Sta canzoni Alla 23 e 51 Ok Clementine baby Se puoi sentire questo Call the police 9-1-1 We love you We love you We love you Prometente la cosa Certo Molto prometente È talmente tanto prometente la cosa Che tipo Questo sangue a terra Taddy 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 Of Pader Father Apri cassetti Prendi quel walkie talkie del cazzo Walkie talkie del cazzo I borkie talkie del cazzo Hello Hello You need to be quiet Ok Silence Silence I kill you too No 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 Ok Per chi conoscete Non sono un mostro Questo chi è Stai bene Stai bene Va bene Tanto sono morti No no È una bimba Poveretta Troppo diretti poi Poveretta Ok Come ti chiami Dove sono Quanti anni hai Come ti chiami Ciao Clementine Ciao Clementine Ciao Clementine Sono Lee Oh ciao Lee Ciao Lee Dove sono E quanti anni hai Rispondi 8 And you're all alone Yes I don't know where anybody is How old are you I'm 37 Ok 37 anni Uuuuuh Sono morti They took a trip And left me with Sandra They're in Savannah I think Where the boats are Sei al sicuro Are you safe I'm outside of my treehouse They can't get in That's smart Molto intelligente See Can you see me I can see you through the window Ah Ma porco Zombie del cazzo Menalo Ah Ah Clicca quella cu Clicca quella cu Eh Eh Ma Zombie di merda Zombie del cazzo Zombie di merda Ma sei un testa di cazzo Cretino Ma sei stupido Menala Come cazzo fai a scivolare Nella pozza Che hai visto Come sei Mollala Dammi quel martello Oh 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 Aiuto 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 Cu 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 Levati dalle palle Levati dalle palle Levati dalle palle Levati dalle palle Le Ok basta Dammi quel martello Ok, ripetiamo Levati dalle palle Mena questa troia Mena questa troia Mena questa Dai zitta Per un altro colpo io l'avrei dato Ah, ketchup Tonto ketchup Perché man vuol dire tante cose Salve Dico la bambina sarà No, 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 tranquilla E' stato Qualcos'altro Sarà stato il vento Eh, si Eh beh direi E' stato solo Sì, voglio i miei bambini Che venivano a casa Credo che Sì E' stato un po' di tempo Sì, sai? Oh Adesso, cerca aiuto Magari urla in mezzo alla strada Ok, cerca aiuto Prima che faccia buio Dobbiamo trovare aiuto Prima che faccia buio Direi Direi Che è il cretino Che di notte va in giro Aiuto, aiuto Peccato che puzzi di ketchup Che c'è? Che è succeduto? Che è successo? Non scappare No Vieni qua Devo dare la chiusura al video Vieni qua Diamolo insieme Clementai Cleme Clementine Vieni qua Ragaccina Vieni qua Ragoccia Vieni qua Perfetto, fermati Allora Mettiamoci vicino No, non andartene Vieni qua Chiuderò il video da solo Capito? Dai Cleme Ti voglio bene Siamo amici Cleme Siamo amici Siamo amici Vieni qua Perfetto Comunque dai ragazzi De bagioanate A parte Barbabietola In coita la luce A parte Spero tanto E questo video Vi sia piaciuto Ragazzi Se questa serie Vi sta piacendo Come sta piacendo A me Vi invito a lasciare Un pollicione in su Sotto al video E un altro commentino Sotto al video Condividete sotto al video E mettete tra i preferiti Sotto al video Incredibile sotto al video Quante cose che potete fare Comunque ragazzi Se davvero il video vi è piaciuto Vi invito a tutte queste cose qua Se lo volete fare Non vi costringo Ma vi quel culo Fallo Incredibile Incredibile Sto gioco mi sta prendendo troppo Ragazzi Comunque Se vi sta piacendo Pollicione in su Condividete Preferiti Caccapupù Andate fuori per la città E urlate Oh mio dio Perfetto E dopo che l'avete fatto Tornate qua A guardare il secondo episodio Che chissà quando arriverà Ciao ciao ragazzi Vi voglio bene E di nuovo Ciao ciao Da dove merda è entrato Fate giuro Se crepi ora Fate lo sto giurando Se crepi ti ti Se muori ti uccido Beh Grazie a tutti Grazie a tutti